Musica Appuntamento con WISP, WISP Liguria, sport per tutti in forma, ben ritrovati, una nuova puntata, una nuova puntata ricca di immagini, di notizie, di informazioni legate al mondo WISP con Tommaso Bisio, coordinatore leghe e area di attività, comitato WISP di Ceno, che è il consigliere nazionale. Bisio, benvenuto, grazie. Buongiorno, ciao Giovanni. Allora, prima di affrontare, abbiamo anche un bellissimo servizio sui nuotatori di Valoresi a Ragno, parliamo un attimo ancora di un passo indietro, noi avevamo già parlato anche nella scorsa settimana con un altro ospite, sempre del WISP, il primo weekend del corso biennale di formazione per insegnanti di danza. Allora, com'è andata? Abbiamo anche delle belle immagini, una scommessa, una scommessa, possiamo dire, già vinta in partenza? Beh, vinta in partenza forse un po' presto per dirlo, ma diciamo i presupposti ci sono. Tanto entusiasmo, buona qualità tra i partecipanti, applicazione, perché non dimentichiamo che il corso è di quelli veramente pesanti, due anni di durata, un appuntamento, un weekend ogni mese, quindi circa 20 ore di lezione per ogni weekend, quindi veramente tosta la cosa. Gran qualità tra gli insegnanti che hanno partecipato a questo primo weekend, il prossimo si svolgerà tra un mese, appunto. direi che gli ingredienti ci sono tutti, è possibile, ricordo, anche partecipare iscrivendosi alla singola lezione, per chi ovviamente non si è iscritto per tempo all'intero corso, quindi se ci fosse interesse verso un argomento specifico, visto sotto forma di aggiornamento, c'è la possibilità di partecipare. Forse non l'ho detto, corso biennale, lo ricordiamo? Corso biennale, certo. È iniziato adesso e si concluderà alla fine del 2015. Voglio dire, vi siete anche buttati su una disciplina amata, particolare, che forse è ritenuta anche a torto settoriale, ma non è così, perché insomma è successo che avete avuto, dimostrazione che comunque la domanda c'è. La domanda c'è e lo si vede anche dal nostro indicatore principale, che è il dato del tesseramento. Sono circa 8 mila i tesserati a Genova per quello che riguarda la Lega Danza, c'è un grosso impegno da parte degli insegnanti e degli istruttori, noi per parte nostra cerchiamo di, come facciamo trasversalmente rispetto a tutte le attività e i progetti, di aggiungere qualità attraverso la formazione. Questo è uno dei casi lampanti. È vero. Altra iniziativa regionale relativa alla formazione di Imperio al prossimo fine settimana, sabato 18 e domenica 19, lo ricordiamo, il primo appuntamento del corso per esperto dal territorio nell'ambito del progetto eppur bisogna andare a cura di Ussi per Luguria e Lega Montagna. La Montagna è un'altra vostra caratteristica? Sì, ora, la Lega Montagna è in questo caso un po' l'ambito trainante, il settore trainante di questo particolare progetto, perché si parla di sport in ambiente, sport all'aperto, quindi la Lega Montagna incarna bene queste finalità, questa vocazione. Il progetto è un pochino più trasversale rispetto al caso della formazione precedente, che era invece proprio di disciplina, di specialità. In questo caso si parla di tutte le discipline outdoor, lo scopo è quello di formare dirigenti di associazione che sappiano far rivivere il territorio, specie nelle zone dell'entroterra, quelle apparentemente più svantaggiate, ma ricche anche di tante parti inespresse, quindi portare in evidenza tutta una serie di aspetti attraverso la pratica sportiva, attraverso il turismo sportivo. E questo è il primo appuntamento in Liguria di corso di esperto del territorio. Nei prossimi mesi verrà riproposto anche nelle altre province, in primavera avanzata qui a Genova e poi via via a Spezia, eccetera. Beh, adesso dalla montagna passiamo invece al nuoto, alla festa dell'atleta, nuotatori varolesi a ragno, vediamo questo servizio e poi lo commentiamo. Grande successo per la dodicesima edizione della festa dell'atleta andata in scena domenica presso il bocciodromo della Società Operaia Cattolica di Genova Borzoli. Un appuntamento importante che quest'anno ha sancito la nascita ufficiale di Aragno Rivarolesi. Di fronte ad oltre 400 persone, i presidenti di nuotatori rivarolesi, storica associazione da sempre affiliata a WISP, e gruppo sportivo Aragno, Stefano Pitale e Fabio Ravera Leggero, hanno infatti annunciato che per la stagione sportiva 2014 le due società svolgeranno l'attività agonistica sotto l'unica denominazione di Aragno Rivarolesi. Il Parco Atleti dell'Annunata Compagine conta ora più di 300 tesserati che svolgono attività agonistica di nuoto giovanile, assoluto e master, di pallanuota agonistica e amatoriale, di apnea e di avviamento al triathlon presso gli impianti di Pra e del Lago Figoi, seguiti da 15 allenatori. Tra i momenti più significativi della festa, la presenza di numerose autorità civili e sportive, la premiazione degli atleti di punta, i pallanuotisti della prima squadra che inizieranno a breve il campionato di Serie C con ambizioni di promozione, allenati da mister Andrea Ciampolini, i nuotatori partecipanti ai campionati italiani giovanili, allenati da Antonio Lucia con la corroborazione di Luca Pucci e Davide Minetti. I capitani delle due formazioni, Matteo Gui e Lorenzo Montuori, hanno ringraziato allenatori e società a nome di tutti i compagni per i risultati ottenuti. Il momento simbolicamente più importante è stato però quello dell'assegnazione della quarta Coppa Lariucci, alla memoria dello storico presidente rivarolese Gastone Lariucci, attribuita ogni anno ad un allenamento della società che si sia contraddistinto per meriti morali, impegno ed edizione alla causa sportiva. Quest'anno l'ambito riconoscimento è stato assegnato dai direttori sportivi Cristiano Novelli e Stefano Danovaro a Fabio Quartino, allenatore degli esordienti A in virtù del suo prezioso operato in cinque anni e di attività a bordo vasca. In conclusione l'assessore regionale allo sport Matteo Rossi ha anticipato la presenza di Tiziano Pesce, presidente regionale WISP, una nuova collaborazione tra Ragno Rivarolesi, WISP e Regione Liguria nell'ambito della prevenzione sanitaria attraverso la pratica sportiva, argomento sul quale l'anautatore in Rivarolesi è stata in passato particolarmente impagnata, in particolare per quanto riguarda le relazioni tra attività sportiva, salute e cardiovascolare negli anziani. Bisogna fare i complimenti a queste due associazioni, Rivarolesi e Ragno? Sì, si sta consolidando questo connubio che è in atto già da qualche anno. C'è da dire che queste due associazioni stanno facendo rivivere, dando nuovo lustro, se così si può dire, perché comunque erano già operative da tanti anni, ma insieme le forze si uniscono, e a tutto quello che è l'ambito natatore, tutte le discipline legate al mare, alla piscina, nel medio ponente e ponente genovese. I risultati si vedono in termini numerici, in termini di qualità delle proposte, anche in questo caso qui, molti sono gli istruttori, i dirigenti, che legano qualità tecniche a entusiasmo e a capacità in termini in campo valoriale, e quindi l'insieme fa sì che le proposte siano sempre innovative e coinvolgenti. Sicuramente. Ora parliamo di un'altra disciplina davvero particolare e interessante, insomma il tiro con l'arco, tra l'altro le ultime Olimpiadi ci hanno visto anche bremeggiare in certe discipline, insomma è uno sport comunque molto vivo. La compagnia Arcieri della Rocca dei Corvi, vostra associazione affiliata, leggo dalla vostra nota che mi avete dato, oltre a promuovere a febbraio un corso di tiro dinamico con l'arco, sabato mattina sarà l'istituto cantore per il primo appuntamento del mini corso di tiro con l'arco rivolto ai bambini di quarta, quinta elementare e prima media, dunque è anche un'occhiata importante ai più piccoli. Sì, questa è una di quelle attività, apparentemente di fatto nei numeri anche di nicchia, ma come dicevi tu, quando poi si arriva al dunque nei grandi appuntamenti è una di quelle discipline che porta medaglie pesanti. In questo caso la disciplina è ancora un pochino diversa da quella olimpica, nel senso che non si tratta del classico tiro con l'arco al paglione, che siamo abituati a vedere, ma si tratta di tiro con l'arco dinamico che si fa in ambiente, si fa in ambiente boschivo soprattutto, ci sono percorsi di diverse piazzuole con diverse difficoltà e si tira, il tiro è a sagome fisse o in movimento che si rifanno a animali delle diverse specie o a oggetti di diverso tipo. È un qualche cosa che ben si inserisce nelle nostre proposte ambientali perché specie ai ragazzi viene insegnato il rispetto dell'ambiente, perché comunque queste associazioni, non dimentichiamolo, proprio per promuovere le loro attività, hanno in gestione degli spazi boschivi che tengono in ordine, che attrezzano e che manotengono per praticamente tutto l'anno per garantire al meglio le loro proposte. Nel caso di Rocca dei Corvi, associazione sestrese di sede e melese per campo di tiro, si tratta di un campo di tiro sito in località Giutte, vicino all'agriturismo Grilla. Questa associazione, così come le altre affiliate a noi, danno un po' il senso, lo spaccato di quelle che sono le nostre proposte, cioè, come si diceva, attività promozionale a scuola, quindi l'avviamento in attività giovanile, l'attività corrente per tutte le età, che in questo caso poi non si è detto, ma vedrà una manifestazione sulle piani di Praia il 23 febbraio, quindi tiro e boschivo nella macchia mediterranea, e poi anche in questo caso formazione con il corso per operatori sportivi, istruttori di tiro con l'arco. Quindi ci sono un po' tutti gli ingredienti per far crescere questa disciplina e ce lo auguriamo veramente. Dall'arco alla vela, perché dal 17 di gennaio, dunque, fra pochi giorni a San Lorenzo al Mare, in Pera partirà il primo corso TED organizzato dalla Lega Vela Nazionale Wisp per istruttori di vela, già operanti nei circoli Wisp, coordinato e gestito dall'associazione Riviera Vento. Vediamo anche delle immagini. Sì, dopo un weekend propedeutico di cui si era già parlato in una puntata di alcuni mesi fa, prende il via il corso vero e proprio, articolato su tre weekend di sedute teoriche e uscite pratiche in mare. Si diceva San Lorenzo al Mare, la manifestazione e il corso viene organizzato con il contributo di alcune nostre associazioni dell'imperiese, quindi Riviera Vento, Skipper Club e Andorra Match Race. Il corso vede la partecipazione di circa una quindicina di aspiranti istruttori. Anche in questo caso è un'attività che sta crescendo. Ovviamente il nostro è un approccio promozionale per far conoscere il mare, per far apprendere le prime nozioni a tutti gli appassionati che vogliono andare a vela. Poi ovviamente in ambito federale ci sono corsi per chi vuole invece approfondire gli aspetti più agonistici. In questo caso è per vivere anche questo elemento nell'ottica dello sport per tutti. Bene, siamo in conclusione. Prima di chiudere, però, Tommaso, vogliamo ricordare le date delle grandi manifestazioni Wisp, prima il giocagine, e poi appuntamento con l'Atletico, con la terza edizione della Genoa Port Run. Sicuramente un'iniziativa molto vivace, molto bella. Ad aprile poi ci sarà anche in città. Sì, si sta entrando nel vivo dell'attività. Da pochissimo si è conclusa l'annata precedente, ma non c'è tregua per quello che riguarda le nostre proposte. Giocagine, attività sport di palestra. Quest'anno cambia location, si trasferisce a Borsoli, al palazzetto di Lago Figoi, dove si svolgerà il 23 di febbraio. La Genoa Port Run, uno dei primi appuntamenti del calendario podistico, sarà il 2 marzo, con partenza dalla stazione marittima per arrivare nel cuore del porto, sulla terrazza della Lanterna. Vivi Città, nella location di Pra, già sperimentata con successo lo scorso anno, sarà invece domenica 6 aprile. Benissimo, Tommaso Bisio, grazie. Naturalmente sport per tutti in forma, anche perché UISP non sta mai ferma, quindi potremmo fare anche questo nuovo slogan. Tornerà anche la prossima settimana. Grazie ancora a Tommaso Bisio per la collaborazione. Ci fermiamo, ma state con noi. Musica 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 Grazie a tutti.